I parenti dei membri dell'equipaggio di un pescareccio spagnolo affondato nelle acque a largo del Canada sono stati ricevuti dal ministro dell'agricoltura in Spagna, mentre le squadre di soccorso hanno interrotto le ricerche dei sopravvissuti. Bandieri a mezz'asta, nastri neri ovunque, famiglie distrutte nella città portuale di Marin, solo 3 dei 24 membri dell'equipaggio della barca sono stati tratti in salvo.